addio ad oscar piattella il grande artista aveva 90 anni teatro rossini ferito dal sisma il roff si farà alla vitrifrigo arena fiume foglia via i cantieri sugli argini più critici un imprenditore e strozzino arrestato 39enne pesarese santa marta ecco il nuovo front office turistico giovedì 26 gennaio buona serata ben ritrovati al nostro telegiornale apriamo questa edizione con la comunicazione della morte di oscar piattella venuto a mancare oggi a urbino all'età di 90 anni con lui se ne va uno degli artisti nati a pesaro più importanti degli ultimi 60 anni la provincia di pesaro urbino piange uno dei suoi artisti più affermati a livello internazionale la capitale della cultura perde uno dei suoi cardini già al lavoro creativo per il 2024 è morto questa mattina all'età di 90 anni oscar piattella artista della luce e della materia che dagli anni 50 partì da pesaro in un percorso artistico autonomo che ha fatto il giro del mondo piattella è venuta a mancare all'ospedale di urbino dove era ricoverato dopo un aggravarsi delle sue condizioni di salute ha trascorso oltre mezzo secolo a pesaro prima di ritirarsi a cantiano con l'appennino che divenne una continua fonte di ispirazione per il suo tratto artistico nove mesi fa pesaro celebrò il suo novantesimo compleanno ma fu piattella a fare il regalo al comune donando il politico per pesaro un'opera che tuttora troneggia nella sala del consiglio comunale in un omaggio di piattella alla pala del bellini capolavoro dei musei civici in una nota oggi sindaco vice sindaco di pesaro matteo ricci daniele vimini hanno commemorato l'opera di piattella la cui mostra di sgregazione unità fu una delle prime esposizioni a pesaro dopo il covid 19 piattella sarebbe stato un grande interprete di pesaro capitale della cultura evento per la quale aveva già ipotizzato di dedicare una mostra per l'occasione nuovi problemi con il teatro rossini di pesaro che ha riscontrato alcuni danni dopo le scosse di terremoto degli ultimi mesi disagi che hanno costretto a rivedere il cronoprogramma delle manutenzioni per dare priorità alla riparazione dei danni emersi rispetto agli allestimenti degli spettacoli e al collaudo della sala della repubblica motivo per cui gli assessori vimini e pozzi hanno annunciato che l'edizione 2023 del rossini opera festival non potrà svolgersi al teatro rossini come inizialmente annunciato il roff sarà dunque interamente programmato alla vitrifrigo arena con alcuni concerti che saranno invece collocati al teatro sperimentale e proprio il terremoto è tornato a farsi sentire oggi con una forte scossa di magnitudo 4.1 con epicentro a cesenatico alle 11 45 il terremoto si è avvertito distintamente anche a pesaro tanto da portare ad evacuazioni precauzionali in alcuni edifici come al liceo mamiani dove tutti gli studenti si sono riversati fuori dall'istituto per poi rientrare a scuola dopo 20 minuti uno sciame sismico che si sta dunque spostando nella provincia di forlicesena con una decina di scosse di minore intensità registrate nella giornata odierna scosse che fino a ieri hanno continuato a rilevarsi anche a largo della costa pesarese e a pesaro dopo il maltempo di questi giorni è già partito un cantiere di lavoro sugli argini reputati più critici vediamo il servizio dopo la rottura degli argini del fiume foglia sono partiti in queste ore i primi interventi di sistemazione per ricostruire le parti crollate l'area attorno al casello autostradale è uno dei due punti in cui il fiume è esondato ed immediato è stato il presidio sul posto da parte della protezione civile che sta analizzando la tenuta della cassa di espansione costruita tre anni fa sopralluogo i partiti già nelle ore immediatamente successive al forte maltempo che ha colpito la provincia pesarese e che ora si sta intensificando per cercare di valutare cosa funzionato e cosa no lavori di manutenzione partiti a fianco del letto del foglia nel tratto tra strada della fornace vecchia e strada dei pioppi con tempistiche di risoluzione degli argini tra i 7 e i 10 giorni circa a fianco del fiume dell'autostrada nei pressi del galoppatoio delle giacche verdi enorme è stata la quantità d'acqua che si è riversata nell'area naturale ma in questa circostanza non è stato il fiume a causare l'allagamento episodio che si presenta frequentemente vista la bassa elevazione e la tipografia piatta rispetto al terreno che circonda l'intera area l'abbondante quantità di pioggia caduta tra venerdì e lunedì scorso ha rappresentato un bel banco di prova per l'area di laminazione costruita proprio per contenere la portata d'acqua del fiume in piena risultato tutto sommato positivo visto che i guai peggiori sono stati evitati ciò che non è stato evitato invece la portata d'acqua arrivata da alcuni affluenti del foglia finendo per inondare il terreno urbanizzato circostante analisi che sono ancora in corso ma la cassa di espansione dei primi risultati sembra aver limitato danni più ingenti ma ciò che emerge è che di area di laminazione una non basta della stessa linea di pensiero è l'assessore regionale a guzzi che ieri ha ribadito l'impegno sul proseguimento di questo tipo di interventi a senigallia sono già partiti i lavori mentre pesero ad altezza della chiusura di ginestreto spetta al comune far partire la prima tranche di lavori e alla regione la seconda parte ed ora ci occupiamo di un'operazione della guardia di finanza e della polizia che ha portato all'arresto di un imprenditore usuraio che aveva un giro di prestiti di circa 800 mila euro un imprenditore coinvolto in varie attività ma da alcuni anni ne ha aggiunta una illegale che gli è costata le manette ovvero un enorme giro di prestiti di denaro ai quali applicava tassi da usuraio così un 39enne pesarese è finito agli arresti domiciliari al termine di un'indagine coordinata fra guardia di finanza e squadra mobile di pesero indagine complessa che tra origine da una perquisizione svolta lo scorso luglio nel corso della quale era stata sequestrata una numerosa documentazione bancaria e finanziaria analizzati centinaia di faldoni e appunti manoscritti che hanno consentito di ricostruire un volume di denaro movimentato dall'imprenditore mettendo in luce 300 operazioni di prestito svolte nei confronti di 280 soggetti per un importo complessivo di 800 mila euro con compensi pattuiti di tipo usuraio richiesti ad altri tre soggetti in particolare l'uomo utilizzava una modulistica prestampata e dedicata all'abusiva attività finanziaria che di fatto consentiva di censire ogni prestito concesso attraverso la creazione di fascicoli numerati tipo scheda cliente all'interno dei quali sono stati rinvenuti anche titoli di credito come cambiali o assegni trattenuti a titolo di garanzia sui prestiti concessi inoltre sono state rinvenute delle stampe denominate piani di rientro che esplicitavano le modalità di pagamento delle rate con date importi e capitale residuo un'analisi dei documenti che è stata corroborata anche dalle dichiarazioni di alcuni clienti identificati che hanno confermato l'abusiva attività finanziaria e la condotta usuraria dell'indagato che risulta aver applicato interessi fino al 105 per cento è emerso pure che l'arrestato esercitava una vera e propria offerta di prestiti in denaro di sua iniziativa ai soggetti in stato di bisogno e necessità nell'inchiesta è finito pure un secondo indagato che si è occupato della riscossione a domicilio delle rate dei prestiti l'illecita attività svolta dall'uomo è stata resa possibile dall'ingente e immediata disponibilità di denaro contante dimostrata dall'indagato in relazione alla quale sono in corso specifici approfondimenti insieme all'arresto sono state effettuate varie perquisizioni che hanno consentito di sequestrare ulteriore materiale probatorio utile per proseguire le indagini e 1.100 euro potenziale profitto di reati contestati la fitta nebbia di questo giovedì ha costretto ad annullare l'apertura degli impianti sciistici del monte nerone prevista proprio per la giornata odierna gli impianti che sia sul catria che sul nerone confermano invece l'apertura per la giornata di domani condizione meteo permettendo parliamo di sanità perché la giunta regionale delle marche ha indicato maria capalbo come nuova direttrice generale del lirca di ancona vale a dire l'istituto nazionale ricovero e cure anziani la capalbo dopo essere stata direttrice generale dell'azienda ospedaliera marche nord è recentemente diventata commissaria della nuova azienda sanitaria territoriale di peser urbino la scelta della regione andrà ora al vaglio del ministero della salute prima dell'ufficializzazione della nomina verrà attivato il primo febbraio nel comune di piandi meletto il primo punto sanitario di prossimità della provincia di peser urbino che introduce l'infermiere di comunità si tratta di una nuova figura professionale in favore dei residenti delle zone più interne della provincia sarà un supporto ai medici presenti che sarà attivo nell'ambulatorio di via matteotti 11 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 ed ora cambiamo argomento domani è la giornata della memoria e vi ricordiamo che a partire dalle 10 sul canale 80 rossini tv e sulle nostre pagine facebook potrete assistere in diretta alla alle celebrazioni della ricorrenza che trasmetteremo dalla prefettura di peser urbino in un evento in ricordo della show a organizzato dalla presidenza del consiglio comunale con il coinvolgimento di diversi progetti delle scuole di pesaro alle 12 il prefetto emanuela saveria greco consegnerà anche quattro medaglie d'onore ai familiari di alfredo guidi mario isotti ugo tamburini e antonio truffelli quattro cittadini della nostra provincia che furono deportati e internati nei lager nazisti durante la seconda guerra mondiale e fra i massimi custodi della storia della seconda guerra mondiale c'è senz'altro gastone mazzanti che noi conosciamo bene di rossini tv lui ha 94 anni ancora continua a divulgare la memoria delle pagine più drammatiche della storia di pesaro ripercorrere attraverso le immagini del periodo fascista e della seconda guerra mondiale la storia di pesaro e questo il progetto apparecchiato dalla presidenza del consiglio comunale che ieri in municipio ha tenuto il secondo appuntamento del ciclo di incontri la guerra na gran brutta storia titolo di un libro del 94enne gastone mazzanti che assieme al suo lavoro documentaristico le stelle continueranno a brillare già trasmesso da rossini tv è il fulcro di questo viaggio nella memoria bellica che fa di mazzanti uno dei massimi depositari di queste pagine drammatiche della storia del nostro territorio quando sono stato collocato in pensione quindi torniamo indietro 1987 io ho pensato subito di fare qualcosa ricordandomi gli avvenimenti ai quali ho assistito allora ero quindicenne durante la seconda guerra mondiale e dirò che sono da pesaro dove abito ormai dal 1962 perché sono un fanese quindi e la guerra l'ho trascorso a fano e sono andato appunto nella mia città natale per chiedere agli amici se potevo cosa cosa pensassero io scrivevo qualcosa proprio della guerra la risposta in dialetto fanese è stata questa per co fa ma cos'è tanto ne frega niente capito è molto facile tradurre il dialetto e allora quindi siccome era difficile reperire la documentazione anche in loco sono stato costretto diciamo e mi ha accompagnato sempre mia moglie che mi ha dato una mano non indifferente è stato costretto a tornare al public record office a londra per reperire documentazione e la documentazione l'ho trovata e quindi che mi ha permesso di scrivere di fare un libro di pubblicarlo su fano e poi naturalmente agli amici della cassa di risparmio dove lavorava con loro allora mi hanno detto sei un vigliaco ti fai la roba per fano e non per pesaro e quindi di nuovo londra e poi anche washington sempre per trovare questi documenti è venuto fuori il libro su pesaro la guerra è una gran brutto bestia quindi risale al 1997 quindi la cosa è molto importante perché il lavoro che io ho fatto senza remunerazione alcuno alcuna è stata dedicata direi soprattutto se non esclusivamente ai giovani e quindi contattando i presidi degli istituti locali e ho illustrato ai giovani quello che io ho trovato la documentazione una cosa fantastica vero perché è stata accolta con grande entusiasmo sono veramente molto contento del lavoro che ho fatto il primo febbraio in comune ci sarà il terzo e ultimo appuntamento con la guerra una gran brutta storia un infinito lavoro di ricerca sul quale mazzanti non ha dubbi su quale sfida sia stata la più complessa dopo il libro su fano su pesaro e su bologna e su napoli l'editore mi ha detto da sentire adesso devi fare un altro bel lavoro quale su roma ma te sei matto su roma era l'epoca in cui roma era sindaco veltroni e quindi è stato fatto ho stato fatto una cosa eccezionale richiesta proprio un lavoro soltanto un testardo forse come e quindi per fare questo ho stato costretto andare fino a montgomery in alabama dove c'è una grande base aerea statunitense e lì ho potuto trovare tantissimi documenti è venuto fare fuori un volume quasi 500 pagine che saranno 420 fotografie una cosa terribile ed è stato presentato al ministero dell'aeronautica presenti generali anche quelli la della pattuglia acrobatica nazionale una cosa molto bella quindi direi sicuramente quello è il libro più bello che abbia fatto e allora davvero tanti complimenti a gastone mazzanti un saluto a lui e un ringraziamento speciale per tutto quello che fa e soprattutto per i bellissimi documentari che ha donato a rossini tv e che noi vi abbiamo mostrato e che vi mostreremo anche nei prossimi giorni ora ci spostiamo all'istituto alberghiero santa marta di pesaro una scuola della didattica sempre più all'avanguardia che oggi ha inaugurato un innovativo laboratorio dell'accoglienza questa mattina all'istituto alberghiero santa marta è stato inaugurato il nuovo front office del laboratorio di accoglienza turistica la realizzazione si deve all'azienda barberini allestimenti che ha dato la possibilità alla scuola di avere una nuova visione dell'atro di ingresso portando una ventata di freschezza e creando un luogo adatto a sperimentare ad apprendere le competenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro il progetto è stato idealizzato e proposto in collaborazione con l'istituto mengaroni dando l'opportunità ai ragazzi di entrambe le scuole di collaborare e anche questa inaugurazione nasce da una sinergia delle realtà sia di altre scuole come liceo mengaroni perché l'idea è venuta allora dobbiamo fare no avevamo qualche fondo per appunto ristrutturare i laboratori avevo detto coinvolgiamo la scuola liceo mengaroni visto che hanno una sezione di arredamento di interni o altro e quindi ho parlato con la dirigente del mengaroni del liceo mengaroni artistico la dottoressa serena perugini e lei mi ha subito detto entusiasta sì sì è bellissima questa cosa perché anche per loro diventava un compito di realtà cioè fare qualcosa di veramente concreto e quindi hanno elaborato diversi progetti i corsi che riguardano il turismo si aprono nuovi mezzi di comunicazione mirati al futuro un'accoglienza rivisitata che vuole allargare le competenze e rimanere al passo con i tempi sempre di più infatti si cercano figure professionali che siano in grado di accogliere ma anche di gestire tutta quella parte social marketing che nel corso di questi ultimi anni sta diventando sempre più indispensabile soprattutto quando si parla di turismo in questi ultimi anni abbiamo capito che voglio dire stiamo cercando anche di dotarci di nuove attrezzature anche digitali come i visualizzatori droni e quindi anche approfitteremo del piano del pnr per acquistare delle attrezzature digitali e attrezzare un nuovo laboratorio che dovrebbe consentirci di preparare anche tutte quelle figure professionali che vengono cercate adesso come persone che volere si occupano del dei canali social dei profili instagram che magari riescono a tramite dei real o dei degli altri insomma post possono insomma far conoscere il nostro territorio la provincia di pesaro orbino che i nostri ragazzi studiano anche grazie all'inserimento di storie dell'arte oppure tecniche di comunicazione li aiuta a improntare una campagna promozionale e quindi stiamo pensando al futuro stiamo cercando insomma di pensare all'accoglienza di rivista se si vuole un turismo di qualità servono operatori di qualità quindi la scuola alberghiero fornisce operatori di qualità concludiamo questa edizione del nostro telegiornale parlando di sport perché ieri l'ital service è approdata ai quarti di finale di coppa italia di calcio a 5 battendo la l84 squadra torinese che ritroverà anche domenica in campionato l'ital service torna a riassaporare il dolce gusto delle vittorie due nel giro di quattro giorni prima il rotondo 6 a 0 in campionato nella tana siciliana del melilli ultimo in classifica che consente a pesaro di salire a un più comodo più due sulle sabbie mobili dei play out poi il ritorno alla palafiera di mercoledì sera in una partita da dentro fuori che dà ragione ai pesaresi l'ital service ha infatti battuto 4 a 2 i torinesi della l84 negli ottavi di finale di coppa italia ottenendo il lascia passare ai quarti di finale di una manifestazione nella quale la squadra di colini e bicampione in carica l'ital service cappa sul 2 a 0 grazie alle reti di alflen e di olivera l'ex e cuzzolino mantiene a tiro sul 2 a 1 una l84 gravata da un cartellino rosso e dal cine chiude il primo tempo sul 3 a 1 nella ripresa a cerbone riporta la l84 a tiro di un 3 a 2 con ansie pesaresi spazzate via dal pallonetto di toni dandel che vale il 4 a 2 il 14 febbraio si giocheranno i quarti di finale contro petrarca padova in sede che sarà definita dal sorteggio prima però c'è l'immediato replay con la l84 domenica di nuovo al palafiera di nuovo con i torinesi attualmente settimi in classifica si va a caccia del bis per continuare la risalita dal calcio 5 al basket dopo la prima bruciante sconfitta in stagione incassata a porto san giorgio l'ital service loreto basket ha ottenuto il riscatto immediato nel derby col basket giovane vinto con un rotondo 59 a 75 sabato il loreto basket si ritroverà alle 21 e 15 in baia flaminia per affrontare tolentino e continuiamo a parlare di sport anche questa sera su rossini tv perché questa sera alle 21 e 20 torna una nuova inedita puntata di insieme a canestro siamo in diretta questa sera non ci sarà Marco Cadedu ma con voi ci sarà Antonio Astuti e avrete la possibilità di commentare in diretta quello che accade quello che si dice al nostro numero di whatsapp oppure nella diretta facebook gli ospiti di questa sera sono Walter Magnifico e Paolo Poto domani alle 7 e 20 in diretta siamo con la nostra rassegna stampa quindi vi aspettiamo per leggere assieme a voi i titoli delle notizie del giorno e dopo qualche ora alle 10 esattamente potrete vedere direttamente a casa vostra sul canale 80 e anche sulla pagina facebook la diretta dell'evento bellissimo che si terrà in prefettura in occasione del giorno della memoria tanti ragazzi tante autorità presenti per un momento che sarà davvero toccante quindi integralmente noi trasmetteremo in diretta questa manifestazione quindi aspettiamo domani alle 10. Grazie per essere stati con noi adesso però c'è il meteo per vedere come sarà il tempo nei prossimi giorni.